Ave Populum de Roma! Ego su Marco Antonio Massimo X Meridio! Meridio! Ma che meridio poi? Volevo invitarvi per lo spettacolo di Antonio Giuliani. Sabato 27 luglio, Anfiteatro di Albano, ore 21. Anfiteatro che noi romani abbiamo costruito e che dopo duemila anni è ancora là in piedi. No come voi che costruite le strade e dopo due minuti c'è stallo trenta buche. Comunque sia, per raggiungere Albano vi do alcuni consigli. potete prendere le strade che abbiamo costruito noi antichi romani. La Tuscolana, l'Appia, l'Ardiatina, la Casilina, la Prenestina, la Tiburtina, la Collatina, tutto Coira, o altrimenti la Salaria. La Via del Sale, costruita da noi romani per andare a prendere il sale, per mantenere il cibo. Che ci avete messo sulla Salaria dopo duemila anni? Le donnacce, le messaline, che dopo duemila anni si chiama ancora la Via del Sale. Perché l'omini asira si firmano. Ah signori, che fa sale? Comunque sia, ci vediamo sabato, Anfiteatro di Albano, ore 21. Oh vado, si vado, mi stanno a caricare la bica, dica, qua la bica è mia, dica la bica, scusa, oh, a Giuda!